Buonasera, vi leggo sulla riva di Mario Luzzi nella giornata dedicata alla poesia. I pontili deserti scavalcano le ondate, anche il lupo di mare si fa cupo. Che fai? Aggiungo olio alla lucerna. Tengo d'esta la stanza in cui mi trovo, all'oscuro di te e dei tuoi cari. La brigata dispersa si raccoglie, si conta dopo queste mareggiate. Tu dove sei? Ti spero in qualche porto. L'uomo del faro esce con la barca, scruta, perlustra, va verso l'aperto. Il tempo e il mare hanno di queste pause. Buonasera.